Vaucer rivolti a giovani under 35 per rimborsare loro le spese di iscrizione e frequenza a corsi di laurea, di specializzazione, master o dottorati di ricerca già sostenute oppure da sostenere. La Regione mette a disposizione degli studenti 2 milioni e 850 mila euro, con cui si conta di aiutare almeno mille giovani abruzzesi che vogliono investire sulla formazione. L'intervento si rivolge a nuclei familiari con reddito fino a 25 mila euro e vale per la frequenza di corsi in Italia e all'estero. Il voucher ha un'entità massima variabile da 3 mila a 8 mila euro e la domanda va presentata solo online e verranno attribuiti 10 punti in più ai giovani con invalidità pari o superiore al 66%. Questo è un grande cambiamento perché, ripeto, per 10 anni i voucher si sono finanziati a rimborso. Da quest'anno si finanzieranno invece proprio a iscrizione e questo sarà un cambiamento che sarà poi anche dell'anno prossimo. Quindi io dico a tutti quanti, quelli che hanno sempre, come dire, che sanno, diciamo che rimborsavamo l'anno precedente, questo lo faremo solo per quest'anno. Dall'anno prossimo e da quest'anno stesso apriremo all'anno che verrà, quindi in questo caso al 2016-2017. Ok.